Chiamo un amico della FIAIP, un presidente, quello che io definisco presidente dei presidenti, che è il nostro amico, ma anche presidente dell'OAM, e un rappresentante istituzionale, il presidente Antonio Catricalà. Grazie. Il presidente, credo, comincia a vedere i propri frutti ed effettivamente sentiremo la sua relazione, sembrerebbe qualche segnale di miglioramento c'è nel nostro mercato, nel mercato degli immobili e di conseguenza nel mercato dei mutui. Questi sono i dati, però è chiaro che solo in assemblee come queste noi possiamo avere la sensazione, il polso del mercato, perché solo voi potete dirci se le cose stanno migliorando o siamo ancora nella palude. Quello che può fare l'OAM per tentare di aiutare il mercato, questo organismo privato che ha però funzioni pubbliche sempre più importanti, sempre più estese, quello che può fare l'OAM è vigilare indubbiamente, ma ci sono due modi di vigilare, un modo formale, astratto, se volete, dommatico e un modo di vigilare per lo sviluppo, badare alla sostanza dei problemi. Io credo che un po' per la mia iniziale ignoranza di tutte le regole formali e per la predisposizione che c'era nel mio team, nel board che voi avete letto, abbiamo guardato sempre all'aspetto sostanziale e questo ha pagato. Vedete, prima noi potevamo, nei confronti di chi sbagliava nel mercato, utilizzare due strumenti solamente, o il richiamo scritto, il rimprovero, e quindi sostanzialmente un buffettino, uno schiaffetto, niente di più, oppure eliminarlo dal mercato, cancellarlo o sospenderlo per non meno di sei mesi, che significava comunque eliminarlo dal mercato, perché con una sospensione di sei mesi quale azienda può riprendere poi tranquillamente il proprio lavoro. Bene, in tanti mesi di lavoro siamo riusciti ad avere un sistema sanzionatorio normale, un sistema sanzionatorio con cui ci è consentito di dare una multa, una sanzione pecuniaria proporzionata naturalmente al valore dell'impresa, al suo fatturato e alla gravità e alla tempistica della violazione. Questo, devo dire, aiuterà moltissimo il mercato. Noi ne faremo un uso limitatissimo di questo potere, perché pensiamo che il modo migliore per governare un settore importante come questo, così delicato, così importante per lo sviluppo di tutto il sistema organizzato dell'economia, occorra stare dentro ai problemi e non stare da fuori a fare la multa come se fossimo, non lo so, dei vigili urbani. Noi abbiamo necessità di capire i problemi e di aiutare a risolverli. Vedete, uno dei grandi problemi che abbiamo noi in questo momento è il merito di credito. Purtroppo ancora non si è sviluppata quella idea che le perizie non devono essere troppo di manica larga sugli immobili. Non si è sviluppata quell'idea che è diverso il compratore che emette il 50% del valore dell'immobile e chiede solo il 50% di mutuo rispetto a chi chiede l'80% o il 100% di mutuo. E anche in questo caso forse lo spread dovrebbe essere diverso e credo che ormai questa sia una strada che prenderà il mercato perché è la strada più attenta. Vi devo dire che in Italia non abbiamo fenomeni di svalutazione del mercato immobiliare così forte come negli Stati Uniti, ma oggi che negli Stati Uniti il valore delle case ha ripreso in termini numerici, beh le famiglie mettono l'ipoteca sulla casa per finanziare delle vacanze, per acquistare una macchina. Ma lì il mercato sale e scende e il pericolo è che ci troviamo come dieci anni fa in cui il valore della casa non copriva il mutuo e quindi diventava un bene non alienabile, fuori dal mercato. E noi ne abbiamo già tanto di patrimonio fuori del mercato, abbiamo tantissimo invenduto. Io ho letto le stime che mi hanno impressionato, voi lo saprete meglio di me, ma mi dicono 10-15 miliardi di invenduto, cioè di interi fabbricati, magari in zone non di pregio, comunque interi fabbricati che sono non finiti perché è fallita la ditta, perché è in difficoltà a portare avanti il lavoro. E tutto questo ci deve far pensare. Noi abbiamo, è come se fossimo seduti su una ricchezza enorme che però per qualche motivo è incagliata da qualche parte. E il bello è che sono incagliati anche i crediti delle banche, connessi ai finanziamenti dati a quelle imprese. Certo, non è che tutto il peso può stare sulle nostre spalle, però noi qualcosa possiamo fare, essere sempre pronti nella formazione, sempre più trasparenti, perché la trasparenza, secondo me, è la fiducia. Se noi siamo trasparenti, se noi diamo la certezza dei costi, la certezza dei rischi, la certezza dei valori, nei confronti di chi compra, nei confronti di chi prende un mutuo, nei confronti della banca, noi abbiamo svolto al meglio il nostro lavoro, perché siamo la prima rotella, il primo momento di verifica delle capacità di spesa, di consumo e di impegno di un qualunque cittadino con una grande banca o con chi vende case. Insomma, devo dirvi la verità, noi oggi siamo nella casa di chi trova la casa alle persone e questo ci deve confortare. Noi siamo oggi in un momento in cui ci viene chiesto qualcosa in più di quello che ci veniva chiesto dopo. Il vento comincia a soffiare, dobbiamo cazzare le vele, dobbiamo fare in modo che quel pochino di vento che c'è diventi una forza trenante per noi e per tutto il resto del Paese. Paolo, grazie per avermi invitato e per avermi dato l'opportunità di parlare in questa serie così importanti. Grazie.